buongiorno buona domenica vi aspetto qua con il mio caffè non sono sveglissimissima ma cercherò di fare del mio meglio stamattina ho scelto dei progetti semplici quindi dovremmo farcela senza troppi pasticci è arrivata la notifica perfetto quindi siamo live veramente buongiorno buona domenica eccomi qua ho ancora la voce da sonno ma migliorerà nel corso del live ve lo prometto e che da quando ho deciso che non faccio più gli ordini la domenica dormo un filino di più e questo comporta come dire la raucetudine la raucetudine vabbè quella roba lì buongiorno buona domenica allora qui deve aver piovuto stanotte ieri sera piovuto un pochino quindi in realtà rinfrescato un briciolo che comunque ci serviva come dire impegnativa come temperatura adesso si sta abbastanza bene credo che oggi passerò il resto della giornata a lavorare sulle grafiche così mi porto un po avanti buongiorno buongiorno intanto qui a parte le due fustelle che useremo sì un po mattiniera perché ho deciso che non faccio più gli ordini domenica mattina per evitare di fare pasticci atroci che ultimamente facevo e allora dormo un pochino di più e in realtà quando mi sveglio solo da preparare il live che non mi pare vero di aver acquisito quel minimo di normalità gli ordini li faremo poi domani domani siamo in due tutto il giorno quindi insomma ce la posso fare quest'ansia da devo fare gli ordini me la devo togliere ieri qualcuno mi aveva chiesto di vedere le fustelle della low fan per la dimensione e alla fine fai che fai me ne sono completamente dimenticata quindi adesso le ho qui a parte le due che useremo che useremo oggi ho preso anche le altre che sono lo fan fa un sacco di fustelle interattive tantissime alcune più complicate alcune un pochino più semplici da utilizzare queste qui sono molto semplici ho guardato ieri il video loro hanno questo canale youtube o comunque all'interno dei dei loro del dettaglio dei loro prodotti postano sempre il video di come realizzare come utilizzare le fustelle che sembrano intricate ma in realtà per esempio questo è molto molto semplice 27 gradi wow ne qui non ho guardato la temperatura ma quando mi sono alzata ce n'erano 20 quindi insomma decisamente tutta vita rispetto alle temperature di questi giorni non ho grandi piani per la giornata di oggi se non riposarmi guardare un po di netflix e andare avanti con le grafiche così mi porto avanti anche per agosto e finisco natale dei my 12 days che è un'altra versione extended che mi è venuta piuttosto impegnativa in termini di pezzi che ho fatto vabbè non ho della sintesi non ce l'ho cosa devo fare buongiorno allora intanto vi faccio vedere queste sono le due fustelle che useremo noi che sono per la shutter card che è la card col meccanismo tipo a diaframma della macchina fotografica che si apre si chiude è molto semplice ed è molto carino molto d'effetto e la fustella fa tutto poi è arrivata finalmente questa che stavamo aspettando da un sacco di tempo sending big hugs che fa semplicemente la scritta a me molto 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 bella poi anche questa la vorrei provare credo di potercela fare questa è la center picture window card che praticamente fa questo adoro i marchi che mettono sul retro un'immagine del prodotto finito praticamente abbiamo questa finestrella che ha una una scene dentro una scenetta perché ha dentro uno spessore che fa ci fa mettere più livelli e quindi si può costruire in diversi modi si può anche solo mettere una foto però è molto carino il meccanismo e anche qui c'è tutto questo non l'ho ancora studiata però non mi sembra particolarmente difficile secondo me ya posso fare poi è arrivata di nuovo questa perché qualcuno ce l'aveva chiesta con il con il trovalo per me questa qui è la la scala la box card pop up che si può fare tranquillamente anche a mano no il negozio non è più aperto al pubblico lavoriamo solo con l'online in questo momento si può fare tranquillamente anche a mano però la fustella in questo caso vi fa tutto e vi fa addirittura anche le mattature questi sono gli spazi dentro per poter mettere i vari strati e ci sono anche tutta una serie di bannerini vedete stelline bannerini più piccoli e le mattature delle varie parti e il risultato finale è questo questa poi si appiattisce si mette dentro una busta e il gioco è fatto poi c'è anche questo che il swish and pop tool pull tab che serve per i meccanismi i meccanismi interattivi questa la devo ancora studiare qui abbiamo la fustella per fare l'invito questa la devo ancora studiare perché ho visto un sacco di tutorial in cui vanno a fermare questi due elementi per poter fare quei giochini di movimento in cui magari loro ovviamente hanno un sacco di critters un sacco di animaletti sulle biciclette sui aeroplanini e li fanno muovere con questi meccanismi devo studiarmela questa qui e poi ce la poi ci proviamo voilà allora questo intanto le appoggiamo in un posto dove io possa non perdere le rimetto a posto ok perché sennò poi domani mattina le cerchiamo e non le troviamo la low fan fa delle card interattive bellissime io mi perdo meno sui timbri perché essendo veramente un po' una capra colorare li uso molto meno però le card interattive sono bellissime hanno un sacco di bustine le scatoline da decorare con i vari animaletti la tiny box per esempio ha un sacco di add-on per far diventare pulcino pipistrello volpe rennina insomma ce ne sono finché volete buongiorno allora oggi noi ci concentreremo su questa questa si può usare da sola così com'è questo è l'add-on in realtà si può usare tranquillamente anche senza l'add-on però vi faccio vedere ne facciamo due di card io seguirò pedissequamente quello che è stato fatto nel loro video perché era assolutamente illuminante in termini di utilizzo quindi mi sembra perfetto continuare a seguire quello per non fare errori non garantisco di non farne altri però insomma ci proviamo allora intanto bevo il mio caffè secondo la mattina così magari un po' più sveglia me ne servono almeno due per carburare al mattino non so voi buona domenica allora dunque adesso vi faccio vedere anche le carte che mi sono presa ho preso in realtà dei fogli singoli di moda scrap della nuova collezione new baby e i due die cut baby boy e baby girl la carta in toni neutri sapete che io amo molto i toni neutri anche le mie due collezioni baby hanno questi toni neutri quindi mi piacciono proprio tanto e questa è deliziosa con queste stelline col faccino sono bellissime allora ho preso la sette la cinque la tre questo quadrettato qui che è bellissimo la quattro e questa qui è la uno e poi ho preso due pastel perché faremo due card nelle due pastel adesso taglio le due basi questa è la pastel toffee e questa anche tre caffè a volte sì anche quattro insomma questa è la light sage il salvia chiaro allora posiamo un secondo queste qui avevo all'inizio pensato di fare la base nella mia carta ma ho poi pensato che forse sarebbe stata un po' troppo spessa proviamo a farle con con le pastel che sono bifacciali e vediamo come viene allora dunque mettiamo qui i die cut un tanto questa è la nostra card allora questa qui è la base che contiene tutti i pezzi che ci occorrono per realizzare la card e anche qualche decorazione nel senso che ci sono anche le macchine fotografiche c'è la base con la sua mattaturina sopra noi dobbiamo dividere perché in realtà ci serve al momento solo la base che taglia proprio la base della card questa vediamo se riesco a romperla così perché usare le forbici di team mi sembra sempre brutto vediamo se ho l'altra questa qui vediamo un po' no è troppo piccolo anche per questo niente bisognerà usare e sacrificare le forbici che sono già andate no è usiamo queste dimmi che siete troppo grandi e allora io faccio così scusate ma io litigo sempre con le fustelle quando sono così tanto ferme e allora iniziamo a togliere per esempio questo quando sono così tanto agganciate diventano difficili da gestire io amo le fustelle che non hanno questi gancetti però ce le hanno praticamente quasi tutte perché farle staccare costa di più costa molto di più e quindi in realtà poche aziende lo fanno il detubbing lo capisco eh lo capisco perfettamente però poi finirò sicuramente per sanguinare alla fine di questo video perché non perdersi i pezzi allora questa è la lesson number two Paola quella advanced io per ora provo a montarle poi sul non perdermi i pezzi farò un corso avanzato sì c'è anche della my favorite things un meccanismo di questo tipo non so se penso che in realtà la logica sia sia comunque la medesima penso proprio di sì allora fatemi solo staccare i pezzi poi litigo con quello che non si vuole perché il problema è che sono fermate e sono fermate per non muoversi tac ok questo lo stacchiamo così questo in realtà può anche stare così non è un problema dobbiamo staccare questo possiamo staccarlo solo con questo perché hanno pochissimo spazio per inserire il cutter sono contenta che vi sia piaciuto l'albumino di ieri con le foto è tutta un'altra cosa questo elemento qui da qui adesso tolgo le scritte che ci sono dentro serve per fare la mattatura della parte frontale della card e qui ci sono delle scrittine ci sono un sacco di add-on la fustella del trenino? ma chi lo sa perché no? vediamo è imbattibile per le fustelle interattive sì hanno veramente una come dire una varietà di modelli e di cose incredibili perfetto ce lo possiamo fare un momento datemi tempo adesso stacchiamo anche questo questo che avevamo staccato qui e magari togliamo questo pezzo che è finito non so bene dove ora il detubbing è faticoso ma sono effettivamente ben ancorate e si fa fatica sì ok poi tutti questi spunzoni qua bisognerebbe pazientemente toglierli perché sono super pericolosi almeno per me che sono un po' maldestrina diciamo va bene adesso ci teniamo questo questo qui ah no questo qui va tolto questo pezzo qui che non è una fustella questa è lma è un pezzo che serve per l'allineamento lo dobbiamo togliere perché se no sono terribili da tagliare è vero questa fustella fa una un meccanismo tipo diaframma della macchina fotografica diaframma sì dovrebbe essere diaframma per questo poi prendiamo una mia bustina intanto abbiamo ancora la sua qui allora mettiamo un secondo i pezzi qui dentro va mi sento più sicura i segni sulla lama ma sì infatti adesso ho una forbice rovinata e una forbice buona e per le fustelle userò sempre quella perché in realtà le cesoiette queste qui non hanno il becco abbastanza lungo quelle col becco lungo hanno comunque il becco troppo stretto per passare nello spazio che c'è tra un pezzetto e l'altro gli interni vanno tolti eh lo so ma adesso vediamo se riesco a usarlo lo stesso dunque direi che se tagliamo un pezzo da 6 pollici va benissimo ne tagliamo uno nel pasteltoffi e uno nel pastel light sage mettiamo solo via queste allora buenos dias ciao Anna allora 6 pollici poi mano a mano ci tagliamo tutti i pezzi che ci occorrono però iniziamo pezzo pezzo allora ci sono due modi eh allora possiamo usare solo unicamente questa fustella qui e per una facciamo così e per l'altro usiamo le donne se usiamo solo questa fustella è necessario tagliare la base due volte perché dobbiamo ricavare anche il pannello frontale che copre il meccanismo allora già mi sono persa eccolo qua diciamo che io inizio a fare questa questo qua che è il light sage immagino che qui due non ci staranno in realtà mi basta questa parte qui questa parte centrale come secondo fustellato quindi io adesso vado a fare una fustellata tutta intera che sarà la mia base e un'altra fustellata dove mi vado a prendere solo questo elemento centrale che poi ritaglieremo in un dato modo e avremo la possibilità appunto di utilizzarlo come pannello centrale c'è anche da dire che posso decidere perché l'effetto sarà questo vedete questo pannello qui di tagliarlo direttamente in un'altra carta che sarebbe anche molto carino quindi magari facciamo così facciamo così allora dunque tiriamo su un secondo la big shot cercando di non fare troppa confusione ci tagliamo i pezzi che ci occorrono vai a correre che voglia brava io sono veramente bradipo allora ne tagliamo una qui poi terremo qui la big perché in realtà dovrei tagliare tutti i pezzi però adesso vediamo così organizzo lo spazio in effetti ha più senso allora ah vedete qua non ho qua non ho fatto andare la big abbastanza non mi ha tagliato l'ultimo pezzo della carta ma lo rifilo seguendo la riga adesso per il prossimo taglio faccio meglio ve lo prometto facciamo così neanche con la taglierina riesco oh niente dobbiamo tagliare un altro pezzo perché è venuto proprio male prendiamo l'altra carta tanto teoricamente ci servirà solo per questo visto che il pannello ho deciso che lo taglierò direttamente nella carta direttamente nella carta decorativa allora queste due pastel vanno benissimo con questa collezione quindi qualsiasi decidiamo di usare andrà bene io in realtà quando aspettate no non ho perso i mini icons della doodle bag ci stanno perfettamente sì in realtà ci si può ci si può mettere anche solo una foto potete decidere di mettere quello che volete ok ma vedete sfoccato anche voi avrò la lente scusate 18 gradi in montagna mamma mia aiuto allora diciamo che per questa qui decidiamo che sia quella maschile noi la faremo chiudere così diciamo che il pannellino di quella per quella maschile lo vorrei fare con questa carta qui c'è la clelia in campeggio no anche lì no allora a me servirà solo questa parte qui centrale in realtà quindi mi taglio un pezzettino di questa carta per sprecarne meno possibile di modo da poter fare un taglio solo su quella parte quindi adesso ne ho tagliato una striscia intera per comodità la posiziono ah che cretina dovrei posizionarla in questo verso vabbè sì no lo posiziono così è perfetto però non posso tagliarlo in questo modo oddio adesso qui mi scontro con la dura realtà dei fatti che mi serve per poter tagliare la carta con la fustella per fare il secondo il secondo passaggio se uso una carta che ha un senso devo me vabbè in realtà le stelline però così sono proprio a testa in giù le stelline perché il verso della carta è questo dovrei usare dovrei tagliarla così ma in questo modo non mi passa nella big quindi non devo scegliere una carta che abbia un senso se voglio tagliarla cioè che abbia un senso un verso se voglio tagliarla con questa fustella siccome ci tenevo comunque a fare una prova con questa fustella qui per farvi vedere come farlo senza comprare le donne prendiamo un pezzetto anche di questa carta che un verso per fortuna non ce l'ha e quindi posso tranquillamente girare così e l'ho tagliata troppo sottile ma non ce la posso fare non ce la posso fare avrei dovuto tagliarla più larga scusatemi tagliamo a 6 pollici così siamo sicuri di non fare pasticci lo metto così in realtà lo metto sul bordo perché a me serve solo ed esclusivamente la parte centrale ok non mi serve non mi servono le due alette perché andrò a ritagliarlo poi di modo che il meccanismo sia coperto ma è solo una copertura sì o tagli la carta a misura questo è comodo perché in realtà seguendo il taglio delle alette hai praticamente già subito il pannello tagliato in un secondo in pratica adesso noi andremo a fare un taglio non su questa parte qui dove c'è la piega ma qua da qui in giù e quindi questo lo mettiamo qui possiamo fare con uno spreco di carta e tempo non indifferente allora componiamone una alla volta poi la seconda la faremo un pochino più in velocità perché ormai sarò super 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 padrona del mezzo allora considerando che questi qui adesso sono ritagli e che potrò usare per la mattatura me li sposto qua sotto allora un elenco delle carte no le trovi però sul sito tranquillamente allora questo dobbiamo tagliarlo perché dobbiamo andare a fare il forellino questo qui si taglia in questo modo lo faccio adesso perché ci serve per per tagliare allineo la punta della nostra aletta vedete qua di modo da farlo diventare piatto così quindi questo poi verrà incollato lo faccio vedere in questo modo dovrò tagliare anche le alette adesso ve lo faccio vedere solo tagliato così verrà in questo modo per fare il foro che ci permetterà di far vedere il meccanismo ho bisogno di tagliare questo cerchio da cui devo togliere questa stellina vediamo se ce la facciamo con questa è che sono veramente durissime ok vediamo se riesco a non sanguinare hanno veramente delle connessioni molto molto forti e quindi ok allora questi possiamo tagliare questi due le due alette sopra sopra e sotto tanto non ci serviranno e allora dobbiamo allineare se riesco a prenderlo questo pezzo allora questo va allineato da allora così e questo qui questo ci porterà giusto? sì allora prendiamo un uscino e fermiamo questo elemento questo elemento altro non è che una L che ci occorre per segnare il posto in cui andare a mettere la nostra fustella questa punta tonda che ha qui combacerà perfettamente adesso abbiamo tutti questi spunzoni che danno fastidio combacerà perfettamente con l'esterno del nostro cerchio vedete con la curva del cerchio e quindi ci darà perfettamente anche se a me non sembra al centro ma è giusto così vedete combaccia perfettamente ma non è allineato al centro perché eppure scusate eh sono appena sveglia quindi magari sbagliamo qualcosa no però è giusto che sia in alto così però non è al centro allora noi lo mettiamo qui così questo è allineato perfettamente e beh io lo metto proviamo a tagliarlo al limite lo ritagliamo di nuovo facciamo questa fustellata magari non con la taglierina non nella nella big shot poi adesso mi sveglio meglio poi questo cerchio ci può servire per decorare poi il nostro la fascetta che chiuderà la card questo verrà vedete qui tutta questa parte qui poi noi la matteremo decidiamo come dopo adesso ci servono ancora due elementi di questo allora anche questo presenta lo stesso problema nel senso che questo qui sarà attaccato qui e farà il meccanismo a scorrimento che ci serve per avere l'effetto wow se usiamo una carta che ha un verso dobbiamo fare attenzione perché uno sarà messo così e uno sarà messo così di conseguenza dobbiamo fare attenzione a tagliare la carta di modo che quando i due pezzi si incrociano e quindi quando il meccanismo è chiuso non stonino e non diano fastidio a qualche personaggio allora diciamo che la carta all'interno lì dato che il resto a questo punto il resto della della card sarà un pochino più scuro e lo farei in questo giallino che è molto molto bello quindi ne taglio una striscia e così con questo giallino mi metto anche un po' al riparo da potenziali errori perché non ha un verso e quindi posso tagliare un po' dal lato che voglio senza preoccuparmi eccessivamente poi magari sulla prossima card proviamo a utilizzare il senso in realtà basta poi girare la carta secondo me dovrebbe essere sufficiente ma adesso ne tagliamo uno così almeno io mi ero fatta l'idea che bastasse semplicemente poi girare la carta e avremo un meccanismo a destra ne taglio un altro e avremo il meccanismo di sinistra poi in realtà per l'interno della card dovremmo avere praticamente tutto ci manca poi la fascetta per per chiuderla e la mattatura per le pagine e eventualmente se vogliamo le varie decorazioni che ci sono montiamo questa prima di fare qualsiasi altra cosa perché allora questo e questo li posiamo un secondo qui quello che dovremmo fare sarà piegare bene qui la carta di moda scrap è abbastanza sottile quindi questo riuscite a farlo tranquillamente anche senza impazzire con la pieghetta vedete che qui ci sono due segni questo e questo che sono stati impressi dalla struttura della fustella questi spunzoni qua non sono da togliere sono fatti apposta perché lasciano un segno questi sono il segno di allineamento di questo pezzo che dovrà essere messo esattamente qui vedete combaccia perfettamente noi dovremo mettere il biadesivo qui e questo si chiuderà così e dall'altra parte stessa cosa così io adesso non li chiudo ancora perché magari decidiamo di decorare l'interno una cosa a cui dobbiamo fare attenzione quando incrociamo questi è di sovrapporli in questo modo quindi uno con una parte sopra uno con una parte sotto ok e quando avremo il meccanismo aperto chiuso questi si incroceranno allora devo decidere come decorare a questo punto l'interno qui avremo lo spazio decorativo non abbiamo tempo di prima insomma prima di chiudere il meccanismo della card abbiamo tempo di decorarlo ha questo spazio praticamente quasi questo spazio qui perché è quello che rimarrà visibile quello che voglio fare adesso è decorare questa parte qui e queste due allora questa parte qui in realtà rimarrà quasi tutto coperto si vedranno solo questi due spazi quindi io lì metterei quasi quasi un pezzetto di giallo quindi mi taglio mi misuro il mio spazio della card e mi taglio un pezzetto di mattatura questo se usate una carta pattern no questi tanto non riuscireste a toglierli nel senso che sono veramente importanti come spessore quindi no sono 9 cm per circa 12 vediamo se per caso ci sta all'interno di questo pezzetto che avevo usato per tagliare le due freccioline vediamo 12 c'è e anche 9 lo facciamo un pochino più stretto di modo che non dia fastidio perfetto non lo incollo perché altrimenti mi toglierebbe mi toglierebbe come dire la la guida per le mie frecce quindi quello che farò io prima sarà questo lo allineo qui e lo faccio e lo incollo di qua questa parte qui se non sbaglio no si vedrà questa parte qui si vedrà posso decidere se metterci una mattatura e io lo farei e metterei dobbiamo farlo tutto prima perché altrimenti è tutto coperto allora prendiamo questo sarà sempre 12 per no ma infatti non li copro ancora cioè prima in collo e poi in collo di modo da poter allineare questi e poi mi muovo questo qui sarà un 4 e mezzo quindi tagliamo un 12 e facciamo un 4,4 per 4,4 più o meno così ok questi qui io ho la mia traccia da questa parte quindi se incollo prima questi sono tranquilla che la mia traccia non verrà coperta poi incollo questi prima di incollare il coperchietto sopra incollo la mia base gialla sotto vediamo se funziona sulla carta dovrebbe ma sapete che io sulla pianificazione non sono fortissima vado con la colla di modo che se dovessi sbagliare insomma sono ancora assolutamente in tempo a rimediare userò il biadesivo solo per queste due striscioline che sono le freccette che sono più comode ok quindi una è qui e l'altra ops e l'altra è qua prendiamo un pezzettino di biadesivo sì sì pur di appiccicare certo spazio per gli appiccichini la prima ci serve sempre un po' per prendere le misure non sono neanche certissima di aver centrato bene il nostro cerchio ma allora la linea qua esattamente dove ci sono i segni vedete la tengo ferma la tengo ferma repeat e chiudo è giusto perché non chiude perché non avevamo ancora mai fatto la piega chiudendo questo si attacca ok faccio la stessa cosa di qua allineo questa vedete dove ci sono i due segni adesso mi appoggio al tavolo per comodità e questo è fatto poi qui posso attaccare questo non dovrebbe dare problemi ma adesso lo provo magari lo sfilo di un paio di millimetri in modo che non dia problemi sulla piega tanto in realtà all'interno non si vedrà cioè i due bordi i due limiti non si vedranno poi qui potrò decidere di mettere la decorazione che potrà essere anche semplicemente un cerchio che adesso centreremo questa la incolliamo in realtà il meccanismo della carta è fatto quando noi fermiamo questo dobbiamo avere la premura come vi dicevo di fare incastrare questi uno sopra uno sotto di modo che il meccanismo faccia questo adesso che lo vedrete fermo è un altro discorso allora questo qui verrà incollato qui prima di incollarlo decido che cosa voglio che ci sia qui allora posso metterci un die cut posso metterci un timbrino posso metterci una scritta posso metterci una foto posso metterci un po' quello che voglio adesso apro la versione baby girl dei die cut e vedo se dentro c'è un die cut della misura adatta per questo cioè della misura che mi può piacere lì dentro tenete anche presente che ho questo cerchio la cui dimensione è perfettamente matchabile a questo che mi permette di decorare devo farlo prima di incollare questo perché questo andrà ad essere incollato così perché il meccanismo farà questo e sto aprendo giusto appunto una scusa meravigliosa di aprire i die cut poi faremo l'altro meccanismo e poi decoriamo allora questi sono i die cut baby girl sweet girl c'è anche questo curicino che è molto carino vediamo qui c'è anche la luna che è molto carino c'è anche questa oh c'è la nuvoletta questa è forse la mia preferita la nuvoletta che tiene una goccia che mi sembra perfetta allora prendo il mio cerchio e mi taglio e mi taglio una carta potrei anche tagliare questa è solo che è la stessa poi del mio pannellino quindi non ha molto senso posso prendere un pezzetto della pastel sage in realtà che è la parte la mia carta che ho quasi mattato tutto tagliare un cerchietto e usarlo come base potrei usare sia il pois che il verdino oppure potrei usare una carta in tinta unita un pochino più pastello oppure potrei usare semplicemente un bianco va bene lo stesso potrei anche decidere di usare un bianco solo che poi il bianco con la nuvoletta un pochino mi si perde facciamo una prova nel tagliare questo cerchietto nel pastel sage nel light pastel sage di cui dovrei avere tipo diapositiva qui vediamo un secondo allora il mio pastel sage avanzato sarà qui sotto credo eccolo qua è uguale tanto si a seconda del del pacchetto di abbellimenti che apri lo puoi trasformare in maschile o femminile questo set di carte ha delle tinte estremamente neutre e di conseguenza va bene un po' per tutti quindi non è come dire non è particolarmente indicativo allora per allinearlo il trucchetto da usare è questo io metto giù questo e lui sarà perfettamente qui è deliziosa sì queste carte sono tenerissime sì allora mi aiuto in questo modo prendo un pezzettino di biadesivo e lo metto qui per ora lo metto solo qui questo mi serve come guida per posizionare il cerchio se lo voglio mettere potrei anche non metterlo cioè io mi sto volutamente complicando la vita mettiamoci anche un po' di colla perché è proprio sicurissima di metterlo preciso il primo colpo non sono e lo allineiamo e lo allineiamo metto un puntino di colla qui e semplicemente faccio questo ok ho usato il forellino come dima ora quando il meccanismo sarà chiuso succederà questo ok adesso che è ancora tutto aperto è un po' difficile io metto qui la mia nuvoletta vediamo che cosa dicono queste scrittine che ci sono qui hello smile sarebbe anche carino mettergli uno smile cosa ne dite possiamo sempre metterlo una volta che è aperto allora senza esitare colla poi lì ho ancora dovrei ancora riuscire a metterlo mettiamo un altro pochino di biadesivo qui preferisci il pois la prossima la facciamo col pois l'importante è che siano uno questo sopra e questo sotto oppure il contrario perché in questo modo il meccanismo fa questo ok vedete forse è un fine un po' grandina la nostra nuvoletta la scritta a questo punto secondo me anche per evitare che faccia troppo spessore se la faccio la metto qui ma abbiamo un sacco di abbellimenti io userei gli abbellimenti abbiamo i die cut quindi il meccanismo è semplicemente questo adesso questa qui la metto un attimo da parte la decoriamo poi però vedete quanto è stato semplice nonostante la mia impedicitudine ed iniziosa adesso sto così tutto il giorno va bene troviamo cose da fare alla cle ok allora la mettiamo un secondo di qua e facciamo la seconda card quindi ci tagliamo la nostra base e poi così una volta che abbiamo tutti gli elementi possiamo iniziare a decorarla prendo le nuvolette mi sono scappate di qua ok allora questa era una delle carte che avevo scelto dunque usiamo di nuovo la nostra base a questo punto per questo qui aprirei le donne e poi usiamo anche tutti questi pezzettini qua aspettate che li posiziono prendiamo un sacchetto prendiamo una bustina va che lo so che mi perdo via ho ordinato le buste grandi per contenere le carte col bottoncino così da poter mettere gli avanzi di ciascun progetto ho i lavori in corso non vi dico che cosa ci ho fatto scrivere perché lasciamo che sia una sorpresa è un antistress potrebbe essere neo 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 tutto il giorno così passo è un amore questa cosa è deliziosa va bene allora qui abbiamo il pastel toffee che avevo già che mi ero già tagliata da cui taglieremo questa poi adesso decido di che colori fare i vari questa è la shutter card di che fa un po' shutter island però è un'altra roba è la shutter card di low fun adesso useremo anche le donne per tagliare il pannellino allora intanto iniziamo a tagliarci i vari pezzi che ci servono così poi l'assemblo con calma e ci diamo un po' all'appiccicare visto che tanto questa cosa qui la finiremo in fretta se qualcuno ha voglia di darmi una mano e di cercare le misure proprio per fare le buste facciamo le buste i bustoni sì ce l'ho qui che cosa ci ho fatto scrivere perché mi fa ridere ma cerco di trattenere ogni tanto all'uomo del sito qualche soddisfazione devo darla e quindi non posso dire subito tutto 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 allora dunque ovviamente quelle grandi saranno un pochino più care però sono tipo un 30 ho fatto fare un 31 per 32 una cosa del genere di modo che ci stia tutto comodo aspettate che spingiamo la fustella in giù se c'è incluso Leo credo di no I believe oh no mi si è spostata la carta no che sfortuna ma do allora rifacciamo Stefania quasi 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 allora aspettate che qua abbiamo una carenza di spazio non indifferente spostiamo un secondo la big spostiamo questa qui teniamo questa bustina non ci serve più qui ci sono i die cut voi ok tagliamo via la cimosa perché altrimenti non ci passa e la nostra fustella che è qua ok quindi abbiamo lui che è il pannellino principale diciamo portante della nostra card poi decidiamo subito questo qui è da buttare decidiamo subito di che colore vogliamo fare i nostri le nostre freccioline allora potrei rimanere sempre sul giallo oppure potrei prendere queste nuvolette qua queste nuvolette qua ovviamente hanno un verso quindi bisogna fare attenzione nel modo in cui le si taglia queste qui le terrei per fare un'altra cosa che adesso poi vi faccio vedere quindi teniamo questo qui ci tagliamo una striscetta di questa carta e vediamo se funziona come ho pensato di ovviare al fatto che ci servono due frecce chiamiamole speculari per poter attivare questo meccanismo intanto qui mi sta cadendo a terra l'inverosimile ma non importa allora tagliamo uno di queste in un verso che abbia che abbia un senso vedete io ne ho una così l'altra si taglia e vi avrebbe sempre così bisognerebbe metterla al contrario ma avremmo le nuvolette a testa in giù quindi quello che ho pensato è semplicemente beh potrei anche tagliarla così in realtà beh sì girando la fustella molto semplicemente così vediamo dovrebbe assolutissimamente lontana da queste fustelle non ti sa niente col gn già neanche a me infatti lo sto facendo solo per farle vedere a voi perché neanche a me servono queste fustelle neanche a me serviva il negozio a dire il vero poi mi ci sono trovata in mezzo perfetto basta girare la fustella senza tanti giri ok poi il pannellino questa volta invece che tagliare una seconda fustellata della base portante della card e fare 82.000 pasticci come ho fatto l'altra volta usiamo le donne le donne di questa fustella ha a parte una serie di decorazioncine deliziose di scrittine ha un'altra macchina fotografica ha il pannellino della misura corretta e addirittura ci fa già il cerchio già centrato per personcine come me che hanno difficoltà ecco non ho rotto la bustina ma non riuscirò mai a rinfilarcela dentro per persone come me che hanno delle difficoltà di centratura è assolutissimamente perfetto adesso bisogna solo staccare tutti questi elementi ah ok possibilmente senza farsi del male senza farsi troppo del male perché un po' di male presumo che sarà inevitabile allora queste hanno un pochino più di spazio però io poi metterò tutto insieme e donna e fustellina ce la posso fare così poi bisogna staccare ancora questa scrittina qui allora guardate hanno pochissimo spazio quindi anche infilare una lama ah queste fustelle si ti semplificano la vita come dico sempre tante cose si possono fare senza le fustelle senza le borda assolutissimamente si queste cose come dici tu ce le rendono un po' più semplice semplicemente se uno non è particolarmente preciso come me detto a caso delle bustine eh sono delicati si mariella sono cellofan sono quanto più sottile possibile e si rompono sono contenta che non si rompano solo a me perché io le disfo tutte ok ok questo pannellino qua ci risolve il problema del cerchio perché vedete questi tiziani anche per te è evidente che questi non devono essere tagliati quanta carta va sprecata si anch'io figurati a mano non sarei mai in grado di farlo questa è la shutter card della low fan questo è il suo addon io adesso ho tagliato la base nel pastel toffee a questo punto che magari decido di lasciare lasciamolo all'esterno il pannellino decido di farlo potrei farlo sempre nel pastel toffee oppure potrei tagliarlo aspettate che prendo ma potrei tagliarlo nel pastel toffee mi lascia più spazio per le decorazioni ma possiamo tagliarlo nella stessa carta che abbiamo utilizzato per l'altra card che secondo me è molto bellina oppure in questo giallino no tagliamolo in questo giallino che è delizioso vero Tiziana che era evidente sia per me che per te che quella roba lì non bisognava provare a toglierla mi sembrava mi sembrava facile mi chiedono che fustella era eh lo so lo so così fustelliamo in effetti questo qui ci leva un passaggio in cui è facile sbagliare le donne cerchio ah caspita vedete che io li ho tagliati male e adesso questo qui mi ha rovinato la carta eh mannaggia che bisognerebbe rifilarli tutti vabbè noi li copriremo con qualcosa adesso poi questo cercherò di cercherò di venirne a capo vedete quello che è successo è questo che qui dove ci sono questi spunzoni qua avrei dovuto rifilarli meglio e adesso non saprei neanche come fare tipo così e questo mi toglie è la possibilità che il segno rimanga impresso sulla carta è sempre bene farlo sia perché non correte il rischio di farvi male perché questi spunzoni sono veramente balordi ve lo dico non so quanti di voi quante ferite da stacco fustella possiamo contare nel gruppo ma penso tante io personalmente tantissime e che non è neanche semplice agganciarle ma guardate questa che roba ecco ah scrivi a mano che brava allora questo mi dispiace che si sia rovinato così quasi quasi lo ritaglio vediamo se ci sta sì sì ne facciamo un altro dovrebbe essere a posto adesso sì tagliati via gli spunzoni a posto ok allora diciamo che per quanto riguarda il cerchio posso anche lasciare il puà che c'è sotto che è molto carino oppure mettere il bianco che viene fuori dal cerchio che abbiamo già tagliato poi allora teniamo qui a portata di vista tutti i pezzi questo qui lo mettiamo un attimo qua dentro perché poi ci sono altri pezzi che dobbiamo tagliare ma lo facciamo dopo prima iniziamo a montare questo meccanismo allora queste sono le nuove carte baby di moda scrap questa è la new baby quella con i toni neutri che ha dei day cut sia per la versione baby girl che la versione baby boy a seconda del day cut che scegliete ovviamente si declina per bimbo o per bimba dunque questo andrà qui sopra vedete questo così ha anche tutto lo stitch ed è perfetto ma anche io detesto tagliare le fustelle tantissimo allora e mi sono tagliata sì vabbè quindi adesso lo copriamo va bene allora la cosa che dobbiamo fare è innanzitutto piegare questi e iniziare ad attaccare questi o comunque a posizionarli questa parte qui la mattiamo la mia composizione sarà questa questa qui la mattiamo a questo punto io utilizzerei questo quadrettato che mi sembra delizioso ok ci serve un 12 per un 4,5 le ordinette tutte sono bellissime allora 12 cm è l'altezza della nostra aletta per diciamo un 4,5 scarso un 4,4 che sono questi due pannellini qui questi li incollo subito perché perché così poi posso far attaccare questi e il meccanismo può essere montato allora prendiamo un po' di colla e lo attacchiamo qui mi tengo un po' distante dal bordo così di modo che questo si possa piegare senza difficoltà poi mettiamo il biadesivo su questi due pezzetti così 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 la linea qua vedete dove ci sono i due segnetti quindi la linea bene quando sono sicura piego e lui si porta dietro il pezzetto ed è a posto stessa cosa di qua a linea con queste due v che ci sono qui che combaciano perfettamente con il taglio della fustella e siamo a posto ok questi uno sopra uno sotto adesso mettiamo il biadesivo qui e qui e lì poi in realtà abbiamo lo spazio per infilare la decorazione vediamo se nei die cut baby boy c'è qualcosa che posso mettere lì dentro oppure se metterci semplicemente il cuoricino fustellare una delle scrittine che è all'interno di questi due set di fustelle che ho aperto noi avremo il nostro pannellino così ok vediamo allora non ho ancora aperto i baby boy e non ho forse un altro ciotolino libero ascoltate sì dai ho uno piccolo qui l'arcobalino sarebbe delizioso è troppo grande è un po' troppo grande potremmo mettere il sole allora potremmo fare in due modi aspettate attacchiamo il pannellino solo sopra come abbiamo fatto nell'altro caso solo per avere bene il riferimento di dove andare a posizionare l'eventuale decorazione se io questo lo attacco bene qui mettiamoci un po' di colla che così posso giochi chiaro non ho incollato nulla sì sì sono disponibili e sono anche ordinabili laddove dovessero finire il sole è veramente carino se no vediamo c'è l'arcobaleno che è anche delizioso apriamo un secondo questi die cut it's a boy c'è un cuoricino c'è anche un sole più piccolo io queste nuove lette le adoro you are so loved ci sono anche i palloncini che potrebbero essere molto carini in effetti vediamo un po' c'è questo sole qui che forse è un filino più piccolino che potrebbe forse andare meglio se no ci sono i palloncini anche i palloncini sarebbero carini fatemi fare una prova riposizioniamo guardate gli mettiamo un puntino ino 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 di colla per avere un'idea di dove sarà la nostra decorazione allora i due palloncini secondo me si vedrebbero poco sono per lo più coperti voterei il sole più piccolo che è qua sì il sole piccolo è carino vediamo se c'è qualche stellina piccina perciò sono un po' grandine forse per questa dimensione quindi il sole con le stelline non c'è zecca ma è una card non ci facciamo problemi no dai mettiamo solo il sole potremmo fustellare una scritta sì anche per me il sole è perfetto all'interno della fustellina delle donne c'è questa c'è questa fustellina della scritta che dice for you questo for you noi lo possiamo fustellare nel pastel toffee in un piccolo avanzo di pastel toffee che così viene marroncino e vediamo come sta lì non è detto che poi ci piaccia però intanto proviamo a vedere come l'effetto che fa prendiamo un pezzetto di pastel toffee avanzato che magari guardate questo qui che era il taglio fatto male del pannellino della card prendiamo la e lo fustelliamo lo fustelliamo di modo che rimanga sul marroncino e vediamo se ci piace prendiamo la scrittina da qui sarebbe stato furbo usare il foglio di biadesivo sì e quindi non l'ho fatto come sempre allora vediamo da dove questa è un po' piccina come la stacchiamo esattamente da qua scusate sto litigando con la fustella per tirare fuori la scritta ok non la sto facendo spessorata infatti non dovrebbe impedire lo scorrimento ma adesso facciamo la prova non dovrebbe vediamo allora ho quotato che il sole è delizioso la scrittina è troppo grande no la mettiamo da qualche altra parte ce la teniamo qua perché è un amore chiudiamo qui uno sopra e uno sotto spellicoliamo uno sopra e uno sotto non importa quale dei due sia sopra e quale sotto ah ho messo il pannellino tagliato male vabbè non importa magari magari lì ci possiamo mettere un cuoricino più piccolo qui per esempio all'interno sempre del pacchettino di fustelle delle donne tra le donne e quella normale ci sono vedete due cuoricini servono per fare il copio obiettivo della macchina fotografica in realtà ma noi possiamo usare i cuoricini da mettere lì per esempio quindi adesso ritiro su la big shot chiedevo se ah no secondo me allora un pochino di spazio c'è ma il rischio è che si si che si intruppi fustelliamo tutti e tre vediamo come vengono poi abbiamo ancora da fustellare la fascetta e i pannellini per le due antine davanti per le due alette davanti che adesso decidiamo con cosa stellarli e poi decoriamo a questo punto visto che in realtà abbiamo fatto molto in fretta di domenica mattina l'unico giorno in cui ho un po' più di tempo farei le bustine cosa ne dite oh ma guarda così copriamo con la schifezza è delizioso ma è un amore allora vediamo dove possiamo eventualmente pensare di mettere il cuoricino questa che è doppia fa il copre obiettivo ah sono deliziose sì se facciamo la bustina avrei bisogno di una volontaria che mi controllasse sul blog di Annaelle le misure non riesco allora questo cuoricino qua minuscolo potremmo giusto metterlo lì ed è perfetto mentre qui mi sa che i forellini sono piccini per il mio punteruolo devo prendermi un ago questo coso qui mi sta ci sono un sacco di nuvolette sì scusate ma devo evitare di sanguinare sulle card mi è bastato sanguinare sui campionari ho tagliato un pezzetto allora vediamo se qui ho un ago mi sembra di no ma usiamo guardate quello di una spilletta la macchinetta con cuore sì è adorabile c'è il copre obiettivo ma vabbè allora il cuoricino piccino piccino lo metterei qui questo è una roba deliziosa qui mettiamo il cuoricino che fa il copre obiettivo guardate vabbè ma che cosa non è e adesso misuriamo la bustina adesso misuriamo la bustina così vediamo di che dimensione metterla e qui c'è un altro cuoricino che magari metto lì in alto guardate anche questo possiamo mettere qui e poi riempiamo con i day cut di moda scrap riempiamo decoriamo allora intanto se qualcuno ha voglia di cercare le misure la bustina che ci occorrerà è deliziosa la bustina che ci occorrerà adesso prendiamo avevo un rughello ecco qua allora è piccina è un 9 cm per 12 e mezzo allora vi direi che potremmo fare una bustina da 13 per 9 e mezzo spessorata di mezzo centimetro 13 per 9,5 per 0,5 di spessore se qualcuno ha voglia di cercare sì con la pocket non ce l'ho qua vicino la pocket dovrei però avere la envelope somewhere allora mettiamo solo queste qua qui dentro guardate che cosa facciamo ancora con quelli che sono i pezzi contenuti all'interno dei set di fustelle che abbiamo aperto allora aspettate che qui ho pezzi allora questo qui è il baby boy e questo coricino lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qua questo qui sotto scusate sto cercando di togliere un po' di cose da qua perché ho il tavolo completamente in vaso allora questa non ci starà mai qui dentro vero si diciamo che non è contenta di entrarci ma ci sta allora abbiamo questi pezzi qui che sono rispettivamente la mattatura per questa aletta per queste due alette qui e la fascetta per chiudere la card queste qui tutte e due vanno fustellate due volte allora io userei per la fascetta a contrasto la carta pastel quindi con i pua fuori e per l'esterno adesso vediamo innanzitutto iniziamo a tagliarci le fascette per tutte e due queste le posiamo un secondo qua ho ancora quella carta lì meravigliosa che vorrei usare per il per il fondo allora prendiamo un pezzo alla volta abbiate fede arrivo ho troppo poco spazio sul tavolo e troppe cose sul tavolo sono due robe che non viaggiano bene insieme allora la pastel green dobbiamo fare le fascette e la pastel toffee per entrambe per poter avere la fascetta della misura giusta ci servono due pezzi uno e due uno e due ci stanno perfettamente facciamo già che prendere anche la carta per la mattatura delle due alette fuori allora io ho ancora una carta che non ho toccato che mi piacerebbe molto usare questa qui è quella baby girl e questa è quella baby boy io userei quasi quasi per una questa qui guardate che è deliziosa è la carta che abbiamo usato per il meccanismo che a questo punto userei per la baby girl ne tagliamo le striscette devono essere in verticale potremmo anche farla a mano questa cosa assolutissimamente ma facendola con la fustella credo avremo l'impuntura esatto e una per l'altra invece che è questa io vorrei le stelline se abbiamo abbastanza carta ma sì direi di sì sono deliziose sì ok adesso tiro sulla big shot e facciamo questi tagli che ci occorrono così poi le fustelle sono a posto questo for you lo tengo qua poi per fare le buste prenderò altri due solidi perché non ci bastano allora due mattature per le ante aspettate aspettate ditemelo tra un attimo le misure che poi non sono più in grado di trovarle nei messaggi aspettate quando ho finito qua me le dite per favore allora qua che lo so che le perdo poi aspettate aspettate a darmi le misure che non ho niente su cui segnarle qua così ah ok hai anche la penna perché qua io ho di tutto tranne che la penna allora 18,6 per 18,6 prima piega 10,2 vi state dando due misure diverse 10,2 10,9 7,7 per spesso 8,4 aiuto controllate solo un secondo perché sono due misure diverse aiuto no io comunque vi voglio bene perché anche io faccio di queste cose così e la seconda così 10,2 10,9 sono giuste mi affido no vabbè ma guardate che delizia sono deliziose mettiamo questa nella bustina questa qui invece ci serve per la fascia la fascia la tagliamo dalle pastel due pezzi per ciascuna fascia e ha anche l'impuntura ce la facciamo fare anche le bustine assolutamente 10,2 10,9 va bene adesso tanto le ho segnate adesso finisco questa parte qui e poi ci dedichiamo alla bustina e a questo punto dato che facciamo anche la bustina decoro tutto dopo 1,2 è la busta a mano Tiziana ma cosa dici già adesso dovrò cercare la board ma mi sembra di vedere sbuccare qualcosa potrei quasi essere fortunata allora togliamo un po' di pezzi qua che non ci servono così da fare un po' meno confusione quindi iniziamo dalle cose semplici le mattature abbiamo detto che la baby girl avrà queste due e la baby boy avrà queste due queste le possiamo già incollare tranquillamente senza fare tanto 13 e 9,5 esatto è spessa mezzo centimetro non ci serve di più fa molto giappo mi piace tantissimo e così e questa è collassata ma noi la mettiamo qua queste magari alla stessa altezza se riuscite adesso vado avanti così tutto il giorno sei incollate dritte vabbè adesso mi sembra che qui si stiano avanzando pretese un po' esagerate bencivigni allora non ti invito nel live se fai così un orecchio di ricambio oh mamma mia Alessia io non ho quasi mai sofferto di otite ma sono con te stelline che sorridono ok così a questo punto abbiamo il retro che anche qui lo vorrei coprire perché ho fatto una ma chissà se queste due ci bastano avete detto 18,6 fatemi vedere se per caso vuoi mai che ci bastino questi avanzi qua allora ma che fondoschiena pazzesco 18,6 per 18,6 strano che sia capitata a me una cosa del genere probabilmente l'ascolterò quel giorno questa sarà una bustina sto tagliando dagli avanzi e a questo punto anche questa dovrebbe esserci 18,6 e questa è perfetta 18,6 di suo meraviglia ok e queste saranno le nostre due bustine poi volevo coprire questi due fondi questi due fondi li posso coprire per esempio un pezzetto di questa vediamo se è abbastanza alta sì direi di sì misuriamo in altezza quello che è l'altezza della mia mattatura che così le facciamo uguali sono 4 pollici e mezzo per 3 e mezzo 4 pollici e mezzo no 4 pollici e mezzo così 3 pollici e mezzo così per 4 pollici e mezzo così ah perché ho fatto tutto scusatemi questa la larghezza è 3 pollici e mezzo quindi 3 e un quarto sì 2-3 volte l'anno senza esagerare così e stessa cosa a questo punto qui ho usato le stelline facciamo la stessa cosa qui quindi sarà 3 pollici e un quarto 3 pollici e un quarto e 4 e mezzo non ci tornano le misure scusate non sto leggendo tutti i commenti deve essere oh scusatemi la bustina cioè noi la infileremo così quindi 13 x 9 e mezzo e larga spessa mezzo centimetro aspettate che poi dobbiamo assemblare anche queste intanto incolliamo queste così ho sbagliato a dirvi le misure vedo che si sta discutendo sulle misure potrebbe essere allora dovrebbe essere larga 13 alta 9 e mezzo di modo che il flap venga giù così ok le fascette allora le nostre fascette sono queste qui vedete che hanno questo pezzetto qui che si piega e questo pezzetto qui allora come vanno assemblate vanno allineate perché poi questa si piegherà così vanno allineate qua no aspettate che mi sono perso un secco così giusto così così questa si piegherà così e questa si incollerà su così ok poi prendiamo uno zinzinello di colla e lo mettiamo qua così vedete perché così continua lo stitch e stessa cosa qui dovrebbe essere così dovrebbe essere così ma io la infilerò così la card perché altrimenti il flap non viene cioè non si riesce a creare un bel flap quindi adesso non è ancora incollato bene e quindi ho paura di forzarla aspettate bisogna aspettare solo che si incolli bene ok questo cerchio è perfetto qua davanti per la mano sì adesso ne proviamo una se poi non viene ho dell'altra carta in negozio volevo rassicurarvi allora colla così in realtà ho tagliato tutto con le fustelle adesso solo la bustina la facciamo a mano la facciamo a mano provo a farla a mano non garantisco non dovete avere aspettative troppo alte nei miei confronti ve ne prego che poi mi rimanete delusa deluse ok intanto che lei si incolla io cerco la board per esempio che comunque potrebbe servirmi allora ma guarda che fondo stiena sembrava quasi preparato invece no se l'avessi preparata probabilmente l'avrei messa in un posto dove non l'avrei mai più trovata allora facciamo una prova teniamo presente che questa carta è molto delicata quindi devo fare particolare attenzione quando uso questo tipo di pieghette che hanno una punta molto appuntita che ci serve assolutamente per avere un buon risultato ma che ci fa correre il rischio di forare la carta allora 10,2 10,9 10,2 e 10,9 poi questa si gira si allinea si allinea si gira così e così ma direi che ad occhio mi sembra sono carine vero allora facciamo una prova mi sembrerebbe abbastanza a vederla così adesso prima di tagliare i nostri quadratini a cosa faccio delle pieghe si è esattamente io adesso ovviamente è aperta ma ci siamo ok adesso facciamo che tagliamo i quadratini che ci sono qui con le forbici buone così poi arrotondiamo i nostri le punte poi facciamo anche l'altra così abbiamo più spazio per decorare ok quindi mi servirà mettere un pochino facciamo le punte prima sapete che le board hanno tutte il corner il il rounder qui dietro ok quindi sarà così questo volendo si può tagliare si può piegare in dentro io in genere amo lasciarlo anche così mettiamo un pochino di biadesivo qui questa cosa che rimetto a posto le cose subito mi fa perdere di vista dove le metto guardate mettiamo un pochino di biadesivo qui e un altro pochino qui mi guido per poterla incollare bene e poi con la mano da dentro faccio questo quando la mia card sarà chiusa adesso la fascetta è un po' giusta 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 e sarà che poi noi abbiamo messo un sacco di spessori ma questa è quella girl però la stessa cosa ok allora la fascetta se posso darvi un consiglio allentatela un pochino nel senso che lasciatevi qualche millimetrino di gioco in più perché è veramente tanto tanto giusta e io quasi quasi tanto ci metto poi il fiorellino ci metto il cerchietto per coprirlo perché altrimenti diventa troppo 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 giusta quanto dura questo live il tempo che mi serve per finire il progetto non lo decidiamo mai in anticipo quanto dura a volte durano di più a volte durano di meno perfetto questa sarà la sua così ha un pochino più di gioco essendo che noi abbiamo inserito tanti elementi e questo potrebbe essere il suo coprifascia che mettiamo qui così copre il fatto che la mia fascetta non è drittissima ok facciamo la seconda bustina magari questo lo vogliamo un pochino meglio però così allora 10,2 e 10,9 e 10,9 giriamo questa è l'envelop con la 123 il meccanismo per girare è un pochino diverso io disimparo completamente uno quando ricomincio a usare l'altro quindi sono veramente pessima da questo punto di vista ma chi ha seguito dei corsi qua con questa board lo sa che mi manda completamente in confusione facciamo già che fare le punte e questa la possiamo mettere via ah sì poi certo dura quanto vuoi tu nel senso che quando poi vuoi passare oltre finisce live certo allora tagliamo solitamente la domenica e il sabato ci concediamo un pochino più di tempo perché in settimana con gli arrivi e gli ordini faccio sempre un po' fatica la misura noi l'abbiamo fatta in base al biglietto con la board possiamo decidere che misura di busta ottenere quindi è molto comodo perché possiamo fare possiamo personalizzare al massimo la dimensione della nostra bustina poi così la carta di moda scrap è abbastanza leggera e vi consente di farlo in questo modo ma se aveste una carta un po' più spessa un po' più sostenuta come misura mi raccomando usate una pieghetta per fare questo lavoro qua allora mettiamo il biadesivo qui tipo grande fratelli non so se bisognerà contattare sky così la boccetta di colla no non è il mio prodotto è della vaessen sono i boccettini di precisione adesso non ricordo il codice a memoria ma li trovi tra le attrezzature di vaessen adesso non mi ricordo neanche il nome con cui sono indicati se li abbiamo tradotti o li abbiamo lasciati in aspettate che questa è storta vabbè è dentro nessuno se ne accorgerà mai così ok è un po' stortarella non ci fate caso non guardate non è successo niente adesso lo rincollo bene e questo si chiuderà così adesso vediamo se metterci un velcrino insomma quindi le fustelle per ora non ci servono questo lo chiudiamo un secondo e lo mettiamo qui qui abbiamo le nostre buste e qui abbiamo le nostre card anche questa io la aprirei anche questa l'ho chiuse in un modo diverso ma non importa guardate per allargarlo un pochino sicuramente quelle di Tmolz io mi trovo benissimo e sono molto molto pratiche non stancano mai la mano che è una gran cosa boccette per la colla ok è stato semplice Elisa traduce spesso allora questo lo facciamo un pochino più largo così applicatore fine ecco come si chiamava e qui ci mettiamo questo cerchietto così copriamo anche questa parte qua così ok quindi le buste le lasciamo per dopo queste sono le nostre due card abbiamo qui gli appiccichini baby boy e baby girl per gradire allora cosa posso mettere iniziamo dalla baby girl ci sono un sacco di bannerini ci sono i palloncini c'è questa lumachina che è deliziosa guardate io avrei già sistemato così lumachina e questo che sbuca da qui è perfetto vediamo se ho qualcos'altro potremmo mettere anche questo your soul love che qui non dovrebbe dare fastidio non spessoro niente per paura di creare difficoltà ecco appunto magari poi gli do il tempo no questo è troppo è troppo spesso qui cioè è troppo è troppo lungo vediamo se ce n'è uno più corto se no vabbè anche senza oppure lo lasciamo così vediamo se trovo un cuoricino chiaro ci sono poi queste nuvolette che sono meravigliose però qui non voglio mettere niente perché se no va a ingolfare il meccanismo perché questo scorre e quindi ovviamente qualsiasi cosa mettiamo potrebbe creare dei problemi lo chiudiamo così no no questa è una fustella questa è una fustella di di low fan che si chiama shutter card ed è bellissima guardate mettiamo giusto una luna qui sweet girl possiamo metterlo sulla fascetta anche la luna avrei potuto metterlo sulla fascetta adesso che ci penso allora questa qui ha come decoro questo guardate io ci metto sulla luna ed è perfetto e dietro mettiamo questo bannerino sweet little girl sulla fascetta così non appesantiamo la struttura queste carte sono la nuova linea di moda scrap la collezione baby la linea neutra questo è il new baby vediamo qui questa qui è quella boy avevo detto che avrei messo questo for you che mi piace tantissimo che è la fustella che c'è all'interno non mi ricordo se è la fustella principale il corpo della fustella o se il nostro è don perché li ho aperti tutti e due perché ci servivano assolutissimamente tutti e due guardate che delizia questo bannerino quello ci poteva stare quasi tranquillamente sì guardate se io spostassi il cuoricino adesso lo copro quel coso lì non vi preoccupate è perfetto ci sembra fatto apposta e a questo punto il cuoricino lo mettiamo lì perché non è che lo eliminiamo lo abbiamo maldestramente spostato abbiamo una lumachina deliziosa anche qui che mette in versione azzurro che metterei qui bellissimi e magari qui metterei un palloncino cosa ne dite di qua ovviamente non posso pretendere di mettere tutti i day cut all'interno sarebbe troppo anche per me però qualche cosina ancora la mettiamo mettiamo la fascetta che vi ricordo io ho forzato un po' l'ho allargata un pochino e quindi abbiamo questo da coprire qui vediamo che cosa possiamo mettere c'era l'arcobaleno eccolo qua l'arcobaleno è molto carino le nuvolette ci sono i cuoricini vediamo questo arcobaleno più piccolo sì anche la luna potrei quasi mettere la luna così uguale però la luna un po' si perde no no mettiamo questo la center picture card vi ho fatto vedere vi l'ho fatta vedere prima crea praticamente un paesaggino diciamo uno spazio interno dove poter mettere una scenetta magari una delle prossime che proviamo cosa ne dite sweet boy così ok poi abbiamo ancora dello spazio utile per la decorazione vediamo se troviamo qualcosa che possa aiutarci a chiudere la nostra bustina magari con nascondendo un pezzettino di velcro cosa ne dite potrebbe essere adesso cerco qui nel baby boy potrebbe essere anche solo una nuvoletta anche solo un bannerino anche solo il bannerino è carino perché comunque il bannerino non mi dispiace little prince e anche questa e questa per il maschietto mi sembrano perfetti vediamo per la femminuta che cosa troviamo un giallo sicuramente welcome to the world le stelline le abbiamo già possiamo prendere una nuvoletta due palloncini vediamo se trovo l'equivalente del bannerino così le chiudiamo tutte e due nello stesso modo e usiamo un pezzettino di velcro che verrà nascosto dal bannerino guardate sweet baby allora così velcrino che dovrei avere qua eccolo qui allora questo velcro è particolarmente forte quindi la carta di moda scrap è un pochino più delicata dobbiamo fare attenzione quando la apriamo sto cercando le altre forbici che mi sono mangiata dobbiamo fare un pochino più attenzione per evitare di rovinarla ovviamente allora la colla va benissimo quindi quello che farò adesso come sempre è spellicolare una delle due parti io lo copro così potrei anche non mettere il bannerino però poi prendo una maglietta e cerco di non serve a tantissimo ma un pochino lo smorza perché questa carta è molto delicata due paroncini tre miliardi di cose lo so allora questa abbiamo detto che per ora era quella per il baby boy sì e questa per la baby girl quindi li ho giustamente prontamente invertiti così mettiamo anche questa allora queste fustelle sono quelle classiche un po' da collezionare no secondo me un po' lo rovino così perché faccio un po' meno forza tanto queste forbici ormai ok ok quindi questi li ho invertiti ma non importa vanno benissimo anche se sono uno per la bimba e uno per il bimbo quindi questa per la bimba è un po' sbilenchina ma noi la decoriamo in altri casi avremmo potuto fare una fascetta per chiudere anche questa questa busta ma dato che in questo caso abbiamo già la fascetta nella nostra nella nostra card all'interno ho preferito non farlo così questa l'ho incollata proprio maluccio è per vabbè sweet baby mettiamo così una nuvoletta e il bannerino la luna che mette che fa della nuvoletta no ok direi che sono a posto i day cut sono ancora tanti magari ci facciamo poi ancora qualcosa con questi perché ovviamente all'interno di questa piccola card seppur abbiamo arricchito insomma con un sacco di materiale non ci sta tutto sì magari sì adesso potrei prenderlo come appuntamento settimanale proviamone una settimana volentieri le ho prese apposta queste perché qualcuno mi aveva chiesto di usarle di più per vedere come funzionavano perché spesso magari i video sono in inglese devo dire la verità che quelli di low fan anche solo guardati si capiscono molto bene perché le spiegazioni è sempre lei la signora low fan che li fa quasi sempre lei e sono veramente molto molto chiari e si capisce anche senza conoscere l'inglese però magari non tutti hanno piacere di guardare i video in inglese quindi possiamo assolutissimamente provarli quindi in buona sostanza le nostre card sarebbero queste adesso tolgo da qui un po' di un po' di roba scusate cerchiamo di far tornare questo spazio un filo più qui c'è il mio clini togliamo questi ritagli per avere uno spazio un pochino più pulito allora quindi così questa è un po' sbilenchina ma queste me le tengo le teniamo così non importa guardate che anche questo si è attaccato storto non importa allora e poi abbiamo lei quale ci piace di più è impossibile scegliere non chiedetecelo neanche no ok questo al contrario e adesso le mettiamo dentro le bustine e in pratica sono finite oggi ho fatto in fretta sono deliziose sì partecipazioni bomboniere cose del genere con queste card con queste fustelle si riescono a fare con tempi ragionevoli se dovessimo farle a mano è vero che poi dopo un po' diventa un pochino meccanico e quindi le misure vi vengono quasi da sole però io per esempio sono una che non ce la farebbe mai cioè per me le fustelle salvano la vita sempre i punch anche di più ma una cosa del genere con un punch non si può fare eccole qui semplici in realtà io ci ho perso tempo un po' facendo le prove l'ho aperta in diretta la fustella quindi ovviamente con tutte le prove del caso con tutti gli incollaggi disincollaggi errori insomma però direi che sono venute deliziose che dite allora la collezione di carte è veramente molto molto carina sapete che io amo questi toni neutri due collezioni baby ho fatto ho scelto dei toni neutri anch'io quindi con me si sfonda una porta aperta da questo punto di vista mi sembrano deliziose sono le grafiche sono stupende mi piacciono molto la fustella della low fan io ho usato sia la shutter car che la donna la donna ci permette di fare il pannellino interno con un taglio solo mettendo già anche il cerchio che è tanta roba penso che ci abbiano pensato in seguito adesso non ho presente quando è uscita se c'era già tutto insomma però lo trovo molto 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 utile magari la prossima volta proviamo la scalloped box adesso se domani faccio in tempo magari facciamo il my 12 days di giugno avrei voluto farlo oggi ma poi anche quello era un live un po' più veloce preferisco quando posso tenermelo per farlo in settimana perché così in settimana sono sempre un po' più in affanno con i video perché con gli arrivi lo smestamento degli ordini delle cose arrivate è sempre un po' più complicato trovare il tempo per fare un video più lungo quindi il my 12 days si presta perché in un'oretta abbiamo fatto il nostro layout il nostro fare memoria del mese precedente però magari in settimana a provare una di queste card ce la si fa perché comunque abbastanza se mi avanza insomma ce la si fa poi magari ne proviamo un ogni tot ci sono anche tutte quelle ci sono anche tutti gli add-on c'è la reveal wheel che abbiamo riportato che per esempio non l'ho mai non l'ho mai provata che è la ruota che gira in cui potete mettere all'interno del fustellato tondo il sentiment come si chiamano in italiano sono le carda ruota boh la reveal wheel beh è deliziosa comunque c'è sempre anche la tiny box a cui devo fare ancora un po' di allestimenti avevamo montato in un live la rennina il pipistrello il paperotto anche il pulcino mi sembra la magic iris l'avevo già fatta l'ho fatta a Natale montando una delle pagine del quaderno del quaderno del calendario dell'avvento è un po' complicatina ma in realtà una volta che si capisce il meccanismo e che si usano i materiali giusti la magic iris necessita dei punti di colla di una misura precisa che sono sono sbagli tra sedicesimi perché altrimenti si intruppa il meccanismo non c'è niente da fare bisogna seguire le indicazioni che danno loro d'altro canto le hanno progettate loro quindi chi meglio di loro può darci indicazioni per realizzarle allora mi piacciono tantissimo con i nomi eh alla fine poi sembrano un po' tutti uguali però vabbè le impareremo dai su diamoci il tempo allora io per ora stacco vado a lavorare sulle grafiche abbiamo quasi finito la collezione stesa di Metal Taste di Natale e mi piace tantissimo in settimana ci arriveranno i die cut della ricetta di Natale della collezione che uscirà a fine luglio verso metà ci daranno tutte le carte stampate e spero anche gli abbellimenti così il tempo di assemblare il tutto e ve la presento per fine mese spero anche le fustelle che arrivino in tempi utili insomma vediamo è sempre un po' più complicato con quelle io per ora vi lascio vi auguro buona giornata vi ricordo che trovate le carte singole di Moda Scrap e tutto quello che è arrivato di questa release tutto salvo le fustelle sul sito ordinabile online le paste sono state caricate dovremmo aver fatto tutto domani vediamo che cosa arriva siamo in attesa poi di avere una data precisa insomma Tommy ci dirà quando arriva il suo bundle anche quello sarà interessante da smistare perché ne abbiamo ordinati veramente tantissimi però insomma non vedo l'ora di mettere le mani su quelle fustelle per giochicchiarci un po' e niente vado a lavorare dal divano oggi mettiamola così buona domenica ciao